Oggi va molto meglio, ma il virus circola ancora. Non smettere di proteggere te stesso e gli altri. Ti aspettiamo con qualche piccola regola. Accesso Quando entri in Ateneo o ti sposti all'interno dell'università, igienizzati le mani. Indossa la mascherina. Segui le indicazioni che troverai per raggiungere facilmente e senza affollamenti la tua destinazione. Usa l'ascensore solo se strettamente necessario. Ricorda che hanno priorità gestanti e persone con difficoltà motoria e può accedere solo una persona alla volta. Divieto di accesso Non puoi entrare con febbre o altri sintomi, quali raffreddore e tosse. Non puoi entrare se sei positivo, in quarantena o hai avuto contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti. Distanziamento Evita gli assembramenti Cerca sempre di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Mantieni le distanze all'entrata e all'uscita dalle aule ed occupa per il minor tempo possibile i locali comuni come le aree e snack. Niente abbracci o strette di mano fino alla fine dell'emergenza. Non scambiare bevande o alimenti. Accedi ai servizi igienici uno per volta, evitando di sostare negli antibagni. Igiene Lavati spesso le mani con acqua e sapone. Per un lavaggio accurato sono necessari all'incirca 60 secondi. Se non è disponibile il sapone, igienizza le mani con una soluzione a base alcolica. Per una pulizia adeguata sono necessari all'incirca 30 secondi. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti, usa la piega del gomito. Dopo, igienizza le mani. Ricambia spesso l'aria negli ambienti, aprendo le finestre per pochi minuti, ma più volte al giorno. Igenizza sempre le mani prima di utilizzare distributori di bevande e prima e dopo l'uso dei servizi igienici. Mascherine Proteggi te stesso e gli altri, indossando la mascherina in un luogo chiuso pubblico con altre persone presenti e sempre se non è garantita la distanza di un metro. Prima di indossare una mascherina, lava le mani con soluzione igienizzante o con acqua e sapone. Indossando la mascherina, copri bocca e naso e assicurati che sia ben aderente al viso, per esempio facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento. Accertati di averla indossata nel verso giusto. Quando devi toglierla, fallo da dietro, senza toccare la parte davanti della mascherina, usando gli elastici o i legacci. Gettala sempre nei bidoni identificati per tale scopo. Una volta tolta la mascherina, lava le mani con soluzione igienizzante o con acqua e sapone. In aula Segui le indicazioni per raggiungere la tua aula. Individua la porta di entrata e di uscita. Una volta entrato, igienizza le mani. I posti si occupano progressivamente seguendo le indicazioni. Entrando, si riempiono prima le file più distanti dalla porta di entrata. Uscendo, si liberano prima le file più vicine alla porta di uscita. Siediti nei soli posti consentiti. Insieme, per la sicurezza di tutti.